Ah, ah beh, ah ok, non posso mettere la web Non capisco raga, non capisco perché con alcuni titoli la web non vuole andare, vabbè Fa niente, ci arrangiamo, facciamo le live così Che devo fare raga? Alcuni vanno, alcuni no Non capirò mai questa cosa Fatemi vedere almeno se sto in live Dice live ma non vedo, aspetta Ok, no no, ci siamo, ci siamo Allora raga Sono su questo gioco, che non so come pronunciarlo Penso con Creed Genie, credo, vabbè comunque questo gioco Non so se farci una serie o solo un gameplay Non so che, cioè in realtà ho guardato mezzo gameplay ma non so che tipo di gioco è sinceramente Lo voglio provare, lo voglio provare perché l'estetica mi catturò già mesi fa Infatti io lo volevo acquistare però l'ho trovato sul pass gratuitamente Quindi lo proviamo Unica cosa Spero Ecco E devo un attimo abbassare il volume Che penso sia alto Ma dire 45 se non mi va bene La proviamo 45 Sottotitolo, sì Altoparrante No Perché c'ho No 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 Audio italiano Ok Accessibilità Sottotitolo, sì Vibrazione No vabbè Ma di disegno Ecco già è una roba di disegno quindi sono curioso Sono abbastanza curioso Voglio capire un attimo che gioco è Ah 4k ok Sì giusto Non lo posso attivare giustamente Luminosità 50 Va bene Gioco Vabbè per ora lascio così poi nel caso cambio Regà Io direi Avventuriamoci E vediamo un po' Allora Ho visto che c'era anche la possibilità di giocare in VR Però Vabbè non ce l'ho raga quindi Però voglio capire che tipo di gioco è Non penso Non penso ci sia per forza il bisogno del VR VR o come lo volete chiamare Esteticamente raga Porco duo Non so se il volume è alto Secondo me sì Beh nel caso lo abbasso appena inizia il gioco Sì il volume è alto Secondo me devo mettere 35 40 Perché lo sento alto Di solito lo devo Lo dovrei senti bassino Poi ce lo sento altino Ok Vi ripeto raga Facciamo un gameplay Io lo finiamo proprio Perché non dovrebbe durare tanto Però dipende Pure se mi prende come gioco ovvio È roba di disegno Quindi potrebbe essere interessante Anche se io Non so disegno Ma che è? Ho cambiato voce raga Oh mio dio Ho cambiato voce Allora Un sandwich Un po' Animazione un po' strana Ah italiano il gioco Ah Meno male Oh italiano Stai lontano da Tenska Scusa mamma Tenska penso sia un luogo Non so se è un luogo Una persona Però le animazioni sono un po' particolari Un po' strane Vabbè penso sia un gioco comunque di Tantissimi anni fa secondo me Che PS4 Quindi come minimo c'ha Credo 5-6 anni Credo Poi non lo so Oh animazioni No raga Con quel volume la devo abbassare Giù come lo senti il volume? Penso alto Sì raga è alto È alto È alto il volume Asci siamo noi Sì alto Vabbè tanto Ma quando Quando inizia il gioco Lo abbasso Perché va a finire Schippo il prologo Ecco Asci è bellissimo Ok ragazzo Torniamo a casa Le mie azioni sono strane proprio Raga vi giuro Tenska Sì sì è il paese Tenska Quindi è qui Tenska Tenska before Ah Before e after Ok Raga dovrebbe essere un gioco di disegno Da quello che ho capito Però devo capire Ah Ok Cioè devo disegnare col pad Raga devo disegnare col pad Oh mio dio Eh comunque non si attiva la webcam Quindi dobbiamo fare sta live come Detroit Mi dispiace pure tantissimo perché Cioè Detroit l'avrei fatto volentieri con la web Sì comunque sto muovendo il pad Ok Griglia Cambia Peccato che non si può Ah lo devo colorare Oddio Raga mamma mia Ma non è semplice Oddio Eh giuro Non è semplice Vabbè senti No Madonna Vabbè senti Gli do questo Aspetta Oh ma è difficile Ragazzi disegnavi Giuro Cioè fare Io ho proprio difficoltà Vabbè senti Fai così Aspetta Vabbè Oh dai Apprezzate Aspetta Oh ma apprezzate Questo sarà un ragazzo d'oro O magari Giallo Ragazzi ma il giro è difficile Disegnare Sembra Ti faccio prima il bordo Un po' di segno all'interno Bello Facciamo anti indietro Vabbè ed è venuto carino Ragazzi 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 è difficilissimo Disegnare Sì È stata la scelta giusta Sì Poi la cosa bella È che se lascio Il R1 Il disegno Si finisce Guarda ragazzi Ma è difficile Se non faccio così Spe No Ricalibra Vai faccio prima Tanto non esce fuori No No Ok Ragazzi ma è difficile Proprio Beh basta Oddio Questo lo devo disegnare io No 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 Penso che è sempre così E sotto una luna piena Penso ti chiamerò Luna Ti piace Intanto è difficile Sarete basta Ciao Ragazzi ma è difficile Gioca così però Vi giuro Non so se ci riesco A fare una serie Sinceramente Ma chi lo dici Ecco che arriva Il bull Gini sta atterta Ma smettila di frignare Ti ho mancato di un metro Non è nemmeno la tua fionda L'hai presa dalla mia staccia Chi cerca trova Svegliati strambo Ehi cos'hai per pranzo Ash E questo cos'è? Il tuo quadernino da colorare Ridamelo Vieni a prenderlo Passa qui Bea Ho detto ridamelo No Che cavolo Me lo buttare in acqua palese Dammelo Dammelo Oh no No Io 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 Tu cosa nanetto? Ehi Mettiamolo sulla teleferica Può fare amicizia con il fantasma del fa Attimo Non aver paura Goss'i Minuto Sì No Ma Con il VR secondo me è una cazzata a disegnare Ma così ragazzi non si può giocare Cioè è veramente complicato Oh ma i disegni stanno a volare Ok aspetta Ah non posso mettere la pausa Eh no volevo abbassare un po' il volume Beh però vediamo Magari è giocabile Forse ha ragione mamma Forse non dovrei più venire qui Ma io La sento ancora a casa mia Vediamo un po' Io ve l'ho detto raga facciamo Un solo gameplay O facciamo proprio tutto il gioco Però dipende dalla tipologia di gioco Perché se è tutto così è complesso Oh ma che cos'è quella roba viola Se ne vede sempre più in giro Qualunque cosa sia blocca la teleferica Sono bloccato qui Oh però a livello estetico Sta parte è molto carina Senti audio metto 35 Penso sia il minimo Non so quanto lo devo mettere Vabbè ovviamente giù Tu fammi sapere come si sente Come ci sono arrivati fin qui Ok Vedete però sembra vivo Non può essere stato il vento Eh vedete Infatti Capitolo 1 Il faro Ok Ok Almeno corre Perché si è messo in modalità stealth Ok La pagina vola È come se avesse vita propria Ma è scesa giù Perché ha paura Vabbè sì anche Beh dobbiamo inseguire la pagina Non c'è nessun fantasma L'ho presa Ma che succede? Ma prende vita Secondo me Cosa ho detto eh? Non c'è nessuno Oh Luna La pagina La pagina Wow Questa è un'altra pagina o sbaglio? Ha raggruppato tutto Ma è sparito Dobbiamo seguire il pennarello Il pennello? No, il pennello, non il pennarello Oh, che è sta roba Sì Fix my book Ma questo? Questo è un libro magico Una scuba Volante? Harry Potter? Ma se vuole è proprio Harry Potter No Niente, vabbè Luna Che cosa ci fai sul muro? Muovi il... Punti il pennello lì Eh, vedete? Wow, potrebbe volermici un po' per abituarmi Ragazzi, ma è difficile, però, vi giuro Anche perché... Cioè, sta storto, ma il pad, capite? Si accendono dipingendo È pazzesco Bello Però Ho suonato un po' Aspetta, e adesso dove vai? Eh, lo vorrei... Ok Ma di fogli Ancora le mie pagine Paisaggio Vediamo che effetto fanno sul muro Vuoi che ti disegni questo? Un tulipano Cioè, aspe Cioè, devo disegnare sta roba? Raga, ma come faccio? Ma aspetta, che gli devo disegnare questo? Ma questo non si sa facile Però non so precisamente come si... Ok, ti potrai divertire a camminare un po' sull'erba Finchia, si è complicato Guarda come è storto Ma non me lo dà... Non me lo dà precisa, perché? Forse che lo deve alzare Ma bro, ma è tu... Ma stai forse di qua Non lo so, raga E io gli ho alzato tutto Cioè, raga, che devo fa' Scusa, non è così No, lo devo fare più basso Ma è impossibile Ma... Non sto capendo Ma lui ha fatto così Non sto capendo, raga Oh, sono io questo stupido Oh, è lui Ah, no, aspetta Devo cambiare disegno Che imbecilo Ecco che non andava Dovevo cambiare disegno Vedete? Ma devo pigliare le piante E io le devo disegnare Sono stupido Stupido, sto Vuoi qualcosa che ti tenga al calduccio? Eh? Ecco qua Io ci sto tutto vicino Ma? Ma certo Che fallo sarebbe Senza alcuna stella? Questo È incredibile Che disegno di merda Per raga, dai Sto disegnando un po' meglio Di questa roba La colpa di è infattibile Ok, ma è la cosa più difficile Di sto mondo Che cosa sei? Una macchia da pittura? Forte Ho preso su un'autostoppista Allora va bene Splotch Splotch Niente a domaggia il lion Direi che non vi meritate La fama di spaventoso Fantasma del faro Cioè, ma com'è brutto Ecco la devo seguire di nuovo Ma certo Sembrano molto soliti Wow A cosa si deve salire? Ma? Cosa è sta roba? È splotch Questo sembra Ma l'ho disegnato io Ma come? Quando ero piccolo Tappezzavo la città Con questa roba Ma questo non me lo ricordo Com'è finito qui? Wow Che succede lì dietro Splotch? Ok Vediamo un attimo Quadrato D'accordo Tieni premuto per dipingere un genio È pazzesco Ah, scelgo io come farlo Le corna Questo pennello è fantastico Vi faccio tre corna L'ho animato Wow, raga Ma è figo Aspetta Cioè Oh, no raga Che figata però Cioè, io ho fatto tre corna L'ho animato Io ne potevo mettere pur mille Wow, che figata Questo è figo Tra un modo per arrivare all'una Non è che potresti aiutarmi Non è che potresti aiutarmi Cioè, guarda che fa È una soluzione radicale Cioè, assurdo Grazie Oh, l'idea è forte però Ho l'idea Tanta roba Forse può aiutarmi a tornare a Denska Però io capisco un po' Aspetta Nemico? No, è sempre l'uno Cavolo, quella roba fio L'oscurità Non pensavo andasse così male Che succede? Si arriva fin qui Mi sta indicando qualcosa Ok, c'è un disegno Cosa? Ok I miei dipinti Hanno illuminato questa parte Qui Nella parte L'unica Cioè, una delle cose buone del gioco È che è doppiatino italiano Quindi non dobbiamo leggere Bello Vuoi che io Faccia questo? Che rianimi la città Con i dipinti Però Non potrò fare molto Se rimango bloccato qui Ok Luna Dove sei finita? Mi ha aperto Un passaggio Credo Immagina se No, vabbè Ma è sempre roba di dipinti Eccetera Non è roba che va su di me Penso di dover accendere Tutte queste lampadine Disegnandoci Ok Vabbè Qu'ho disegnato Ma qui Avrò fatto Qu'ho avrò fatto Qu'ho avrò fatto Cioè, penso Perché lui Non via Fatto I geni hanno paura Della muffa E mo Dipingi quello Che l'una ti richiede Per renderla felice Una strisce Che devo dire Beh, cosa ne pensi? Ah, gli ho I geni felici Ti daranno Una super pittura Super pittura Ma mi stai ricaricando Attiva la super pittura Ok La super pittura Elimina la muffa Come? Ah Ah Fico Questa è tipo Super pittura Fatto Si sta ricaricando Questa è che Devo andare di qua A toglierla Ecco Passo Dovrebbero esserci Ok Luna Via libera Vai Moley dovrebbe passare Ecco Che idea particolare Beh Beh Non dura tanto Forse riusciamo A finirlo No Non dico Mob Che è mai impossibile Però Potremmo finirlo Nel caso Comunque È chill Non è una cosa complicata Dispiace solo per la web So perché So perché Alcuni giochi Non vogliono Poi mandare con la web Però Sempre giochi della PS4 E PS5 Problemi Mai Vediamo Non mi toglie la muffa Da qua sopra Ecco Bisogna Completare Uno di uno Ma in secondo me Mo' stiamo già Al capitolo 2 Perché ho letto Che dura 3 ore Tipo Se su Facciamo 5 capitoli No Sono venuto Più di 5 Denska deve tornare A essere bella Ci penso io Meno male Che è sceso da solo E non so Cioè Non mi sono dovuto Fare tutto un Diciamo Cioè Meno male Che non mi sono dovuto Mettere a scendere Tutta la roba Oh Eccolo Prologo Beh non è difficile Come gioco Cioè Basta che disegni Delle robe Ma più che altro Penso che qui È tutta roba Open world Secondo me Non è tanto A storia Secondo me Ma non lo so Ci si vede Cioè nel senso Secondo me Io devo Liberare la città E Devo liberare la città E Niente Tutto qui Poi non so se ci sono delle missioni Però Difficile che un gioco Piano world Insomma Non ti dà delle missioni precise Però vediamo Cioè nel senso Tipo ci sono dei luoghi Andiamo nei luoghi Ripuliamo Quello dico Senza Roba principale Non so se è stata a capire Però è impossibile Perché qui comunque Ci sta la storia Ci sono le cose da fare Forse ci sono le secondarie Eh vedete Quindi Eh no E allora Come si dice Usiamo il termine Non ho scrittato Non va bene È un gioco a percorso Ecco bisogna andare a percorso Fa la roba E fine Ok Quindi poi dobbiamo andare lì Dobbiamo ripulire tutto il luogo Vediamo un po' come funziona però Gli altri si saranno anche arrisi Con questa città Ma io no Eh vedete No 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 Allora come ho detto io però Il porto di pescato È zona 1 e zona 2 Quindi bisogna fare le zone Prendi questo Questi Questi decidi prima Sì Non mi sono fatto vedere No allora No è un mix Sì Diciamo Non mi hanno visto Vinghie Oh 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 si stanno Si stanno a menare No ma non mi sgama Ah no Beh non mi sgameranno Ancora quelle lampadine Sembra un buon posto dove cominciare Quindi dobbiamo disegnare da qui Vediamo No aspetta però Aspetta che sto storto Lampadine accese E ora dove si va? Quindi questo è il primo punto Usa la mappa per trovare Le luci e verificare I tuoi progressi Ok Premi Per aprire l'album Tutti Luci Pagine Luci Per cambiare In che senso? Ah la mappa No aspetta No Ah il faro Ok Ok Splash Ti dovrà trovare I geni No i punti In cui diventare i geni Ah eccolo Quindi qua dobbiamo disegnare i geni Ma li posso Ok mi ricordo Questo qua Ma lo posso disegnare a modo mio? Beh penso di si Ma raga come idea Non è male come idea di gioco eh Solo che vi ripeto È un po' complesso Giocare così Vedete Prova a dipingere il corpo Di un genio Dalla testa Dalla testa ai piedi Posso disegnare questo? Finora tutto bene No Decisamente no No aspetta Sta avvenendo bene Insomma Anche no No raga ma perché è venuto così strano? Non lo capisco Ah perché lo devo animare? E ora? No aspetta Gli devo mettere un paio di capelli Storti Ecco animiamolo Vediamo Ma si muovono? Beh penso di si Eccolo Allora vuole un paio di luci Credo Non sopporti quella roba oscura Ah no ok Aspetta come si faceva? Forse possiamo cancellarla insieme Eh ma per cancellarla Devo usare la super pittura Eh raga ma No Devo ripulire con la super pittura Eh ma Io non la posso Ha voluto il fuoco Diciamo che Devo fare quello che mi dice lui Che mi dici? Ma lui si Si esalta Ok Mi fa la Mi fa la Mi da la super pittura Ecco Vedete? Posso fare così o no? Ti prego dimmi di sì Sì Super pittura Serve la super pittura per eliminarla Fatto? Sì No Ah ma l'effetto non è Super pittura finita Che fa? Se il dirà della super pittura Per cancellarla Ma me la sta ricaricando Ci sono Che sta che a fa? Posso? Beh Andiamo avanti Andiamo avanti Abbiamo finito Che vuole? Super pittura? Sì Grazie No Credo Ah Che vuole che gli illumino Corrisco che a volte va a volte non va Fatto? Yes Vedete? Zona completata Uno di due Non è difficile Se lo fai in modo veloce Potrebbe venire meglio? Sì Lo farò No Obiettivo aggiornato Trovo un modo per oltrepassare il telone Ok Un modo per So se può funzionare Ma credo di no Ma non penso Ah col fuco Come no? Spesso Perché non va col fuco? Ma dovrebbe funzionare Il telone prende fuco? Dai Perché non va? Spesso Ma se ci riesco Sono un genere Ma non penso Non va E a questo punto mi viene da pensare Che non è che ho il disegno Che bisogna toglierlo Ah no niente Devo andare qui Trovo i giornali Per apprendere la storia di Denska Credo che ce ne fossimo già andati A questo punto No raga Non lo so Cos'è quella roba? Aspetta che è sta roba? Cos'è? Allora di giocare? Il tuo genio vuole giocare Ok Figo Ma aspetta che è sta roba? Figo Ok Adesso mi aiuti ad attraversare questa porta? Tieni per un'altra 1 Per chiamare il genio a te Dicete di andare vicino? Bello Guarda che è molto carino come gioco Non devono fermarmi Forse se salgo sui denti Eh ma come? Ah vabbè salta lì in automatico Eh come ci arrivo? Oh mio dio Posso provare ad allontanarmi Premi Per allontanarmi Ehi venite a prendermi E mo? Lo sappiamo che sei qui strambo Quello scemo è qui da qualche parte Preso Andiamo No Bello però che puoi salire qua sopra Ma che devo fare mo? Ma devo andare per cavoli miei Accendi tutte le lampade Aspetta È una principale o no? Io vedo che capi Se ci sono le principali o meno Allora il gioco dice che ci sono Delle pagine Ecco la vedete? Cosa è sta roba? Comunque vedo un botto di pagine Eh no volevo capire Che stavi facendo? No più che altro voglio fare principali però Ma non so quali sono le principali Capito? Dove sta il problema Allora aspettate Allora vedo un paio Allora tutti Luci pagine No allora Raga dobbiamo fare luci Quindi dobbiamo accendere le luci Ok Però mi dice Allora pagine Me ne mancano due Geni richiesta Giocare bloccato No raga voglio fare Ebbene Non so che devo fare Aspetta Dove accendere le luci Ok ok Aspetta ce l'ho davanti Ce l'ho davanti Era proprio qui No non mi interessa Aspetta Dai io dovrei scendere No Ma porco di quel Si raga ma c'ho sta gente Non posso dipingere Devo cancellarla Con la superpittura Eh quello è il problema Che sta succedendo lì Una pagina Come faccia Aspetta Aspetta Si chiama il mio Sorry In realtà no No raga però Come faccio A cancellarla Quella roba Aspetta Però ha detto Che devo accendere Le luci Grazie Ma do Però non so Con quelli Vito Loro No se Sta andata La pagina Ah ok 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 Usa Ma per trovare Le luci E verificare Tuoi progressi Vedete Ma il problema Che non so Se sto facendo La cosa giusta O no Non posso ancora Dipingere Serve la superpittura Eh vedete Eh E ma la super Aspetta però Un po' La sto facendo Sta superpittura Fermo Ecco vedete Mi sa che la sto Per fa Ogni tanto Anna Intanto sbaglio Aspetta Togli sta roba O sbaglio Me la vedo Un po' Carica Però è poco Provo a salire Ma stanno pure qui Si Ma sai che io qui Non posso fa però Poco poco Mi servirà De la sua Staranno bene Insieme Si che devo star Nuti di nuovo Bene Ma scusa Se faccio qualche disegno Cambia qualcosa No Cambia un cazzo Che significa Ma il problema Sapete qual è No Non sto prendendo niente Il problema È che io non posso Scusa ma come facevo a disegnare Il Ah lo devo far venire qua Eccolo Vuole le still Aspetta 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 Vuole le stelle È quello che volevi No Eh vedete Ma mi ha dato la super pittura Beh allora che è una cazzata Dai È facile È facile È facile Immaginavo Eh lo so Sono un bastardino Ma come si sa che l'ho tolto Però dovrebbe esserci Anche altrove Qua dietro Mi sa Ma non c'ho tempo Così va meglio Vabbè vedete Non c'ho più tempo Però Io lo posso richiamare O no No Sono qui Io non capisco Perché a volte Non arriva Vedete Ma lo sto chiamando Lì non arriva Ah forse devo disegnare Per forza Per farlo arrivare Vediamo Non posso ancora dipingere Serve la super pittura Eh no Oh Gesù Raga Non lo so Sono qui Vedete Lo chiamano Forse io devo andare troppo Io devo andare più vicino Eh sì Sento qualche disegno Non c'è mai abbastanza Super pittura Ma sai me la sta Me la sta dando lui Non ti cui Devo morire Qui non c'è No Senti ma la luce qua L'ho accesa No Sì Peccato che non si può zoomare Allora Qui l'ha accese Ok Ok stanno dietro Stanno qua dietro Super pittura Non ti preoccupare Guarda però che padre Questo non viene Lo devo far venire Ma è di qua Aspetta Che potrebbe essere Però che stiamo sbagliando No no è qui È qui Solo che non viene Perché mi sa che deve venire Tramite il muro Aspetta Vieni di qua Vieni di qua Mi sa che lui non viene Se non ci sono i disegni Ma aspetta Ma c'era un modo Mi ricordo Raga c'era un modo Per Per Teletrasportarlo Niente Ops Eccoli di nuovo Ah si sono molto belle Vabbè ragazzi Devo richiamare da me Dai Perché questi Ma non se ne vanno E ho bisogno Che quello Viene da me Sono io Ehi Sono qui Ehi Il team idioti Non mi prendete Vedete Non puoi nasconderti Ma Ma non so se lo posso Richiamare Vieni vieni Fai presto Sto qua Sto qua Muoviti Ma viene o no Niente Sto arrivando Ma non penso che salgono Qua immagino Che loro non vengono Ogni volta che mi giro E dai Qualcuno lo vedrà pure Sì ragazzi Ma non capisco Perché Non posso Lo so io Però scusa Cioè Non c'era un modo Di qua C'era un modo Per farlo Oh cazzo Cioè Qui c'era un modo Per salire Un aiutino Non puoi nasconderti C'è un'idea E fin qua Ci siamo arrivati Tutti quanti C'è un'idea Ecco Ah quello posso richiamare Sto strumento Animiamolo Bene bene Buon compleanno Ciao ciao Mo seguimi Per piacere E vai Mo qui dovrebbe essere Ecco vedete Che là sopra Non ci arrivo Che non ci sono arrivato Ok Ok Ho illuminato Ho illuminato tutto Fatemi di un attimo Oh raga ma Siamo Ho capito ho capito Ho capito ho capito Quelle gialle Su quelle accese E quelle bianche Su quelle spente Quindi dobbiamo Entrare qua dentro Dovevo andare di qua Giusto Si Vabbè raga è facile In realtà Cioè Una volta che la capisci Diventa veramente Semplice Ho sbloccato le farfalle Vedete Le sto accendendo Però ce n'è una Che non si accende Ok Accesa No Non mi serve Attivare la modalità Fotografia Grazie Ridaglie Ancora qui rampicanti Sono come l'oscurità Ma peggio Non credo Che la super pittura Faccia nulla A questa roba Accendi tutte le Eh ho capito Ma Aspetta Dove manca? Ok Vabbè raga Ma comunque è facile Cioè Forse però Eh ok Allora dobbiamo fare così No raga È molto semplice Come gioco Cioè Oltre che lo capisci È semplice È ora di farsi Dei nuovi amici Le amo Disegniamo lui Va Sì raga Non gli faccio Nemmeno le orecchie O altro Li animo direttamente Però è molto chill Come gioco Però aspettate Perché lui Non mi deve dare La super pittura Perché se no Non posso fare niente Cosa vuole? Vuole un albero Ti piace Poi cos'altro vuoi Dimmi cosa vuoi Vuole dell'altro Ok vuole il sole Tipo Poi Hai voglia di giocare Giocare? Eh come Ho capito ma Il tuo genio vuole giocare Ah guardati intorno E cerco occasioni Per giocare Questa roba Sta cantando Dico Vediamo la super pittura Finalmente Perfetto Grazie per la super pittura Fatemi vedere una cosa Sai che abbiamo finito Allora fai così Tolta? Sì Però io non ne vedo Dell'altra No vabbè Quello non può fare niente Oh abbiamo finito Mi sa Zona completata 2 Vedete? Abbiamo Completato Tutta la zona Ma non so quante zone Su Vabbè dai Però è bella Illuminata Questo è il primo Posto Penso Ok Cos'è sta roba? Ma qui non ci sono stato Mi pare Ok Bruttino Lo ho ruttato Penso alle chiacchiere Con un po' di tè E ora al mercato del pesce A dipingere un vero capolavoro Eh ma Aspetta il mercato del pesce Dove sta però? Ehm Ehm Dietro? Eh ma dietro Eh ma dietro Aspetta come faccio ad arrivarci? Però vedo che Vedo che qui Il muro Un po' Non so se notate È un po' strano Sto muro Eh il problema Il problema Raga è come ci arrivo io di là E qui non ci pot- Aspetta forse Io non so se funziona Però Potrei provare Eh no raga Aspetta Eh io è lì che devo andare Eh il problema è che Vedo che non c'è una salita Potrei provare così ma Da qui non penso proprio Che ci possa arrivare Forse sì Forse sì Proviamo Cosa? Ah sono morto praticamente Eh raga ma non C'è manca il doppio salto No ma Io ve l'ho detto Secondo me Aspetta Qui Ma raga c'è qualcosa qui Non so se Aspetta Non lo so raga Il muro È come lo butti giù Un muro Lo provo con le fiamme Ma non penso Ma raga c'è sto muro Che è troppo strano Super pittura Ma Non serve a niente A vedere Non serve a niente No raga Non ho idea Eh no Manco sto tubo Lo soppoggiare Ho finito la super pittura Eh ma non è un problema Una super pittura Il problema è andare da Suggerimento Trovo un modo Per spingere il carrello Verso il muro Ok Vabbè meglio Meglio C'è stato meglio Che c'era il suggerimento Meno male che c'è Sì raga ma è meglio Con il suggerimento Ho bisogno di un altro genio Ok Ah ne posso creare un altro Una mano farebbe comodo Ma quello non può venire È un lavoro per due geni eh Sì ragazzi ma Devo far venire il mio C'è lui viene È pieno di stelle Lo dicevano in un film Perché l'altro non può venire Cioè vedete Quello non viene Perché Ah perché forse ho fatto E ho capito ma Scusa se può modificare lui Mi daresti una mano Però lui ha detto Vuole le farfalle Boh mettiamogliela magari Chiede Vediamo se viene Ah ma viene Guarda si abbassa No vabbè è assurdo Raga Ho capito Aspetta Oh raga però che figo Molto figo E mo C'è sto punto Ok Allora Mi dicono Qualche farfalla Più stelle Eh ok Un fuoco Che te ne pare Poi aspetta Voleva un altro Ha il sole Boh tutto a random Qua qua va Uno qua Uno qua Un po' di piante Metto qua Un po' di questo Comprate il cavo lavoro Vai Si sono accese tutte le luci Ok Che abbiamo fatto Fish market Minchia che disegno di me Eh ma i bambini Non lo sentono Oh Luna Che ci fai qui Non sapevo che potessi uscire Pensavo fossi tipo relegata nel faro Io non sono relegata Puoi muoverti solo dentro ai miei capolavori Ah Capi Cosa fa E what Che salva Oh Ah prima era Spong My spark Splong Come si chiama Ciao di nuovo Bello però Vedere una tua creazione animata Cioè figa sta roba Ma ritorno al far Immagino Ok Però la prima zona L'abbiamo completata E ma Ah ma c'è l'una Vedete Obiettivo aggiornato Dipingi il tuo primo Genio elettrico Ho trovato un nuovo amico Genio elettrico Può andare Ho matto questo Ho pure un paio di corno Qui È bello È venuto bene Dai Ha la coda Pure la coda Ok animiamolo Ragazzi l'idea è veramente figa Cioè l'ho animato io Guarda Dove mi è diventato carino Di era aggiornato Eh vedete Il mio primo capolavoro Genio elettro Momenti Momenti Penso che li devo disegnare io Mappa Ma abbiamo completato tutto Beh io seguo lui Ma arrivano i ragazzi Immagino Sì eh Sì sì esatto Chiunque Oh Ascia un perdente Chiunque disegna Sogna una cosa del genere Lo penso anch'io Mongo Aspetta Super pittura Allora devo cancellare Suggerimento Prima è importante il touchpod Per attivare l'obiettivo Raggiungi l'aria Della centrale Idroelettrica Ok sorry Beh non fa niente C'è un disegno Preso Qui Ma non lo accende lui Grazie Solo che vorrei capire Quanto tempo ci vuole per finirlo Ovviamente ragazzi Non lo finiremo mo Che si immagina C'è un bel po' Però magari domani lo finiamo No Ma cos'è pennellino Senza Il suo pennello No Ridammelo Prenditelo Ho detto Cosa Ah sta vedendo la backstory del ragazzo I genitori litigano Beh lui ovviamente è diventato un tempistello Che cacchio è stato Che ti prende Niente Io Senti te Lasciamolo perdere questo fallito Non sopporto più la sua stupida faccia Quindi mo vediamo Vediamo i ricordi di tutti praticamente Alla fine diventeranno mie amici E' stato Strano Mi ha realzato lui Vabbè si Grazie Penso un po' tutti i bulli su così Centrale idroelettrica di Desca La nonna mi ha raccontato del grande esperimento del professor Lee con l'energia idroelettrica Opening soon Ma non funzionò E decisero di chiudere tutto Comunque l'idea del gioco è molto figa eh Molto molto figa Obiettivo aggiornato Accendi tutta Allora Potrei provare a finire solo questa parte qui Si Però non so quanto tempo ci vuole capito Fa già da un'ora Assurdo è stato quando la mamma si accorta Che non c'era più un posto dove comprare il latte Che cos'è? Si è molto figo Vabbè comunque dobbiamo accendere altre luci Allora qui ci sono Iniziamo ad accenderle Eh lo so che è già un'ora Aspetta Ma diciamo che se è così semplice la sepoltura fa Se è così semplice Questa insegna servirebbe una rinfrescata No Non ora Allora vediamo un po' Allora qui ci sono le luci ma non le posso accendere E qui si Qui no Vediamo se ci sono altre luci Ascela bene Eccola qui altre luci Io per ora accendo queste qui No se noi ci mettiamo due secondi Se ci mettiamo così Ovvio se lo vogliamo completare ci mettiamo un secolo Secondo me Però Se è così No a me ci mettiamo un cazzo Posso sbloccare i comandi della telecamera Vabbè Come ci sei finita lì dentro Allora ho bisogno Ma però non so se il tizio viene Perché loro vengono Perché loro vengono e lui no Qui ci passano no No Non ci passano Porco du Eh ma il problema raga Aspetta lui che vuole Lui vuole il sole Gli alberi E il sole Mi ha dato la super pittura Eh Aspetta c'è un'idea Se mi dà la super pittura Ok Aspetta Ce l'ho ancora No Cazzo È zona completata Vedete Vedete È molto semplice Però spero che non mi scade la super pittura Perché C'ho dell'altro da fare Eh ma aspetta 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 Perché ho visto un altro punto Ok Dove era Dove era Non mica era solo qui No era pure un altro lato Scambo Vabbè No niente Scaduta Vabbè Saracinisca Non c'è più super pittura Eh ho capito ma Ah l'abbassa No Raga c'è la saracinisca La saracinisca ma Ah ok Lo devo fare Ma lui può passare Eh ma Mi deve abbassare quello Lui mi deve abbassare Aspettate un attimo Allora noi siamo qui L'abbiamo attivate Eh raga L'abbiamo attivate tutte Dobbiamo cambiare zona Mi è sempre piaciuto questo Aspettate Dove venire qui Vieni Oh oh Sai già cosa fare Vero Vuole le piante Lo che vuoi più Eh ma il bro deve attivare qua Puoi darmi una mano Eh ok No Che succede Hai capito Ma questo dovrebbe salire Eh Aspetta Non mi serve Ok Però non so se ci riesco a salire Eh Aspetta 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 Se premo sgancia No No raga Aspetta Lo deve sganciare Aspetta Vuoi Vuoi dell'erba Ma in che senso vuole dell'erba Raga ma Raga ma Ah ok Non so perché Mo va Vabbè Mo vediamo Vediamo un attimo qui che c'è Io Non vedo niente Ma forse devo andare Di là Oh No Allora Qui già ci sono andato Allora aspettate Raga perché Vedo che effettivamente Ci sono dei punti Dove io Devo ancora andare Allora io sto qui E vedete Dritto Quindi Ecco E' lì E' lì E' lì che dobbiamo andare Posso buttarmi Mi rompo un piede E' qui che devo andare Giusto Vediamo Yes No Ci sono dei nuovi bambi Hai capito Sti bamboccioli Vabbè ma io da qui Comunque posso fare Il mio dovere Vedi Posso fare lo stesso C'è anche se ci sono loro Solo che Forse mi sgamano Vediamo Si sono allertati però Però Dove Non capisco cosa manca però Aia Si è spezzato Mezza gamba Oh no Non mi ero accorto Spettila di scappare No L'avete visto Vabbè tanto mi Eh ma Vabbè tanto mi Buonacchiappa Aspetta però Sinistra I codardi Si nascondono Aspetta Sì è meglio per te Se rimani nascosto Vieni 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 Ok Aspetta Aspetta Allora Questa è la casa Che c'è davanti Fermatevi Che stress Questi Vabbè tanto non danno Tanto fastidio E' davanti a mi C'è della luce Non riesco a capire dove però Perché Ancora Ehm Aspetta Eccolo Ma non ci posso mai arrivare No C'ho un'idea Il problema è che mi sa che si è macchiappa No C'ho un'idea C'ho un'idea Provate a prendermi Sper lì devo far venire un attimo di qua Sei morto quando ti trattiamo Sì mi trovi Che palla però sali Ok Però mi sa che non va bene Non va bene O si Non so Senti Fa niente Perfetto Però mi sa che ne ho mancato qualcuno Come serve la superpittura Come serve la superpittura Qui ci sono i tizi Merda Aspetta Ne manca uno Però non ho capito dove Ehm Bella No No non ce ne possono andare a casa Purtroppo Ehm Ma dove l'ho lasciato Ok no stanno arrivando Ehi di qua Questi sono tutti i miei disegni Questi sono tutti i miei disegni Ehi Sper c'ho un'idea Non so se arrivano di qua Vediamo se riescono a farsi il giro No eh Aspetta un attimo Fammi vedere una cosa Allora loro di qua passano Vanno vicino al cancello Ehm Aspetta fammi vedere se giù C'è qualcuno che posso attivare Perché a volte succede Che c'è Un Un genio Che posso richiamare Vediamo se È come dico io Oppure no Però non vedo niente No Sgancia 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 Aspetta Sto vedendo un attimo Bellini Eh sì Abbastanza Solo che Ma secondo me non c'è raga No ok vabbè Allora è come ho detto io Dai Li devo chiamare Gli devo fare il giro Vabbè Allora Ma si fa così Guardate Anzi no Aspetta c'è un'idea Ancora più bella Ehi Sono qui Sembra avere un significato Eh va bene Sta bene lì Ora vediamo se è indovinato No aspetta aspetta Venite con me Comunque il giro Se la dovrebbe Ok Ah no Eccoli Eccoli Vedete Sono dappertutto Ve lo sto dicendo io No merda Mi sta sgamando Un agliotino Non ci credo Ma perché non vengono Ho capito ma Che palle Perché non vengono Ragazzi Che cazzo Dove ho sbagliato Non sono mai troppe Non so se i tizi Stanno qua No Ma i tizi Dove sono? Ma non mi dico E sono tornati lì Guarda Ma che Non mi prendete Cioè sono tornati lì Spera Spera Vediamo se funziona Spera 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 Voglio solo che se ne vada Vieni Sei morto Che paura Non oggi Non mi prendete Già Sì raga ma lungo le pareti collegate Come li faccio a passarlo? Devo nascondermi Minchia Eh potrebbe essere Però raga Allora Il giro di qua Sì raga ma comunque No Non lo so ragazzi Non Fatemi vedere se Se ne posso Se ne riesco a creare uno qui Ma No raga Come fai Sono qui Forse non mi vedono Cioè sono spariti Proprio i disegni No ma raga però C'è un problema Con sto gioco Cioè E loro non vengono Cioè Cioè guarda dove si sono Intrippatissi qua Non c'è un modo Per richiamarli Cioè raga Oh no Ehi Sono qui No raga Non C'è Cioè guarda Se sono bloccati lì E mi ho salvato qui Ma quello è cazzo del problema Come li sblocco Madonna raga Però Io può pure ebbere Ma ditemi voi Come sblocco quelli Come li sblocco Piove Sembrava di sì Vediamo Sì raga però Secondo voi È normale? Secondo me No No giusta Stai il cancello Loro passano solo Attraverso le pareti Capito Stai il cazzo del guai Certo Nessun problema Ah mo si sono sbloccati Io 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 non lo so raga Ma non è che vanno lenti Perché stanno i tizi Beh senti Due vanno bene Venite Eh ma è moglie Capito Come faccio a farli A farli Sbloccare Ma non mi ricordo Manco il posto Dove era raga Aspetta Era di qua? Madonna Che cazzo Si ricorda il posto? Sono qui Io non me lo ricordo No No niente Allora vediamo In che zona stiamo Noi zona Cioè vedete Sto proprio dietro Allora devo salire lì No sali Madonna Che trucco Aspetta Aspetta Fammi vedere Qua dove stavano i bambini Prima Si Allora è di qua Allora di qua Un po' qua sopra Solo che sono caduto Quindi mi devo fare il giro Di qua Ok era qui Cioè guarda che trippio Per andare lì Assurdo Non mi vede Era di qua? Eh si era di qua Vai Vediamo se questi vengono Però vedete Si intrippano Dai ragazzi Vi prego Salite Vi prego Vedi Non salgono Oh Eccoli Eccoli Finalmente Allora Ma loro stanno qui Là dietro Eh ma Il problema Rimane lo stesso Loro qua sopra Non ci vanno Perché non si possono Spostare da muro a muro Un aiutino? Cioè io ma Cioè No raga Già lo so che si bloccheranno Aspetta aspetta C'è una idea C'è una idea Lascio una idea Perché Perché io Io li voglio Cioè Tanto è stupido A me servono loro Solo per la super pittura Non so perché Mi sto Flesciando Che ho bisogno Per forza di loro Aspetta L'altro Dov'era Sopra? Sì Ma è finita La super pittura È finita la super pittura Non so raga Io veramente A volte Credo di avere problemi Ma sapete perché Dico questo? Perché mi scordo le cose Cioè io di loro Non ho bisogno Vedete Ho bisogno solo Della super pittura Non ho bisogno di loro Invece mi fisso Che ho bisogno di loro Cioè vedete Adesso è il mio problema Nei videogiochi Vabbè pure l'orario Però Ammettiamolo Diciamo Non so perché Ero fissato Che avevo bisogno Di loro Guarda a me Non mi servono Loro Non so perché Sopra che Eh vabbè Sì anche Divento un po' Ero incoglionito Che vuole questo? Arcobalino? Non so se ce l'ho Perché non ce l'ho L'arcobalino? O non lo vedo? Super pittura? Sì grazie No eccolo Eccolo Eh me ne manca uno però Qua dove? Ok abbiamo finito Ma poi ho perduto Un botto di tempo Inutilmente Capivo pure dove sta il problema Ecco ma La super pittura Me non serviva Fatto Abbiamo finito Vedete? Cioè Io me ne incoglionisco Zona 2 di 3 Ok Stelline Loro Per la super pittura Esatto Vabbè Sono più Lampadine Non sono le stelline Però mi dispiace Per la web Non capisco perché Non esce E con questo La zona è a posto E ora? Ma Mi sa che devo passare Di qua no? Eh Ma il discorso Ah ok ce l'ho Ma ma meno male Senti ma lo disegniamo Così questo Mi metto pure due corna Ah gliel'ho messa in bocca Le corna Vabbè La coda Questa così Vai Anima Diventato un obrobrio Obrobrio Piacere di conoscervi Giulia che mi aiuta Grazie Ma giù Potresti vedere Quanto tempo ci vuole Per finirlo Perché se Non ci vuole tanto Potrei pure pensare Di finirlo morto Se non ci vuole tanto Però se ci vuole tanto Brutto 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 Però Vabbè Se vuoi Sennò Vedo io Dopo Thank you Vabbè Basta che scrivi Il nome del gioco Full game Ce ne stavo Uno di tre ore Mi pare Basta che Vedi quello Però non capisco Una cosa Aspetta Perché stiamo qui Il gioco mi dice Che devo andare dritto Ma dritto Per dove Dritto lì Sì Oddio Torna a casa Sì sì Thank you Thank you Thank you So much Comunque credo Che dobbiamo andare Ah Dritto Sotto Aspetta Non credo Ah ok ok Ho capito Ho capito Ho capito Non mi prendete Ho capito Ho capito Ho capito Allora Il problema è che Non mi vedo No Dai Qualcuno Lo vedrà pure Sì è meglio Per te Se rimani Nascosto Sono qui Sì ma Ma dove Lui Perché non arriva Mi daresti Una mano Sì raga Però Vedete Vedete Dove sta Il problema Ho capito Meno male Ci sono suggerimenti Mamma mia Eh Aspetta Abbassa Lui dice Questo Credo Fatemi vedere Perché Non l'avevo Alzato Se non Quindi Questo Lo devo Abbassare Ma funzionerà Vediamo No Mannaggia A me Non mi sembra Che abbia funzionato Onestamente No raga Non ha funzionato Per un corno Una mano Farebbe comodo Ma sta Firmo Ma raga Ma io Sono stupido Ragazzi C'è un problema Ah No Aspettate Che stupido Che stupido Non manca Non manca poco Minchia Quanto manca Oh Giulia Per di non manca poco Vuol dire che ci vuole un secolo No Un secolo no Però Più o meno Quanto manca Se no Vabbè Puoi Proverò Mandarmi Lo screen Come facciamo Di solito Mamma mia Sto ruttando Proprio La cioccolata Ehi Venite A prendermi Sei morto Quando ti troviamo Ok Stupido Stupido Sono qui Mamma mia Che palle Dove sei bloccato No Ancora Mannaggia Che palle Che palle Che palle Che palle Cioè Il problema Su sti mostri Si bloccano Si inceppano Dove sei bloccato Quello Aspetta No Non si è bloccato Questa L'idea chiare Non si è bloccato Ma lui vuole questo Vuole la foglia Ma veni qua Ecco Ma si accende Dovremmo passare Ma è l'ultima zona Poi Non ti piace il pesce Baby Dai se ne sono andati Ok Minchia No Coniglio Ma guarda Mi ricordi Di tutte e due Ho sempre i genitori Guarda Sempre i genitori Sono stati portati Tipo In un orfanatrofio Andiamocene da qui Beh Joom ha mandato la foto Per l'orario No Perché mi è uscito Mi è uscito Ecco Eh esatto Comunque mi è uscito Hai fatto tipo un'ora Porco due Cioè Sto da due ore Ho fatto solo un'ora Mamma Siamo rovinati Questa roba deve spennere Hox Superpittura esaurita Lo devo fa sopra No Scusami Ma dove devo fa Ah qui Lo ti leggo Portacci tu Ho bisogno di metterla su un muro Stai un'ora e mezza Comunque te l'ho scritto Non manca Eh lo so Però volevo capire Precisamente Capi Che se mancava tanto Cioè Insomma Te l'ho pure detto Se manca tanto Lo finisco domani Se manca poco Lo finisco mo' Mi sa che non ho mai cagato Proprio Cioè mi avevo sentito Ma si scende pure Aspetta Perché è luminoso Boh vabbè Che manca Ma Ah Zona 3 Ah 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 Eh devo passare Eh Eh Ok Ok Ho trovato un nuovo amico Allora devo disegnare qua sopra Bello animo direttamente Si manca tanto Sarebbe No allora non lo faccio Però finisco Però finisco solo sta parte Sembra una specie di muletto elettro Eh la matò Ok Ho fatto il devasto Spera dove l'ho aperto Qua dietro Qua dietro Non mi ha fatto che non lo farò ora Pensavo fosse più core Qua All'aria di essere speciale Ehm No Ma perché non vi è Tu non guidi più Dove poi Eh Non è un bene Che non guida più Ah no Che si è liberato Ok Cosa vuoi? Le stelle? Tieni Vuoi un gufo? Tieni Aspetta le stelle Perché non me le ha disegnate? Che ne dici? Ok vai vieni Vai Boom Ok grazie Morta Eccala Morta Perfetto Ci manca solo questo Una morte imminente Ma però lui Deve venire qua Vabbè che ci vuole Si fa il giro di qua Vediamo se va Cosa? Perché non va? Ah però c'è l'altro Vedete? Allora Farfallina Che non sta qua Dove è la farfalla? Eccola E poi c'è sta roba Che non ho capito cos'è Questo? Si Ti piace eh? Vai mo attiva qua Sto fattore del guidare Che però non mi è capito sta cosa Cioè? Cosa? Vai Ok Ok E ma? Ok Mancano solo due Come se Ragazzi in che senso solo due? Che vuol di solo due? Non sto capendo In che senso ne mancano solo due? Ah ok Ecco due Altissimo suono Altissimo suono Ok Vediamo se va Comunque rispondendo alla tua domanda Eh sì Cioè Vabbè no Ma non c'è che Tipo Tutti i giorni O altro Cioè Mi è capitato due o tre volte Cioè poche volte Però non abbiamo ancora completato Mi sa Ah no ragazzi Ma non è possibile Ma ragazzi Non è possibile Che figo Insomma Ma c'è Eh ho capito A parte che io non le vedo nemmeno Ma dove sono? Allora lì le vedo ma Senti io ci provo Ma non vanno mai a casa Eh Wow quello che ha detto Giulia Raga assurdo Ha detto la stessa identica Ma porco due Eh sto correndo E invece E invece E invece Susto giro Bello eh Ma devo scendere pure Sì Che palle Ce l'ho tutti qua No ma mi hanno visto Mi hanno visto Giuro che non lo sapevo No no ma infatti Non mi fido Eh ma il problema È che non se ne vanno Vado Vabbè 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 si sta togliendo L'allerta dai Non ne vale la pena Aspetta se ne sono andati Seminati Perfetto Perfetto Ma li ha illuminati o no Sì Così va meglio Che manca Perfetto Perfetto Io volevo le farfalline Secondo che sono curioso Ma dopo mi dici Ok ma non so cosa ci deve essere di interessante sinceramente Devo nascondermi No come Mi devo nascondere Come Ma porco demonio Non mi di che non si muovono Aspetta 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 Eh l'ho capito Però dico Non Non Penso sia così tanto Interessante Ed ecco i miei grandi amici 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 Non l'hanno visto Ah lasciamo perdere Non c'è un'idea Sono io Forse l'ha capita finalmente Che cacasotto Ah pure Ah che cacasotto Un po' strano eh Da din Questo gioco Dovranno essere più veloci Fatto tutto penso No Che manca Ma Cioè ce ne sta una tipo qua dietro Ma dove Eh vabbè allora ti spiego Tra poco Ah no ho sbagliato Rego ho attivato L'uscita Li devo togliere dalle palle Mi hanno un po' visto però Sì Ma non sto Capendo Questa parte è qua Stanno qua sopra Le luci o no Perché ho visto Che c'erano delle luci Ma non le vedo Eh di fronte Ah eccole Uai chi cazzo c'era arrivato qua Vabbè E anche le moto eh Con quello mi sa che devi parlare con mio padre Capolavoro attivato Quindi mi sa che abbiamo finito pure la zona 2 Vabbè ovviamente Raga mo Oh weirdo Weirdo Ovviamente raga Mo stacco Sta venire pure la zona Vabbè mo se ne vanno Credo Ok Ok posso dipingere un capolavoro Eh vedete arrampicati alla gru Dovevo andare là Ma i tizi ci stanno ancora Spero di no E spero proprio di no Oh no Non mi ero accorto Spingiamolo verso la Oh no Forse dovresti fare un po' di pesi invece Stucata Vabbè Ah non mi hanno preso Eh però mi stanno lanciando la roba a preso Sti stronzi Non penso proprio Ma scusate come fanno a vedermi se io sto qua solo Eh sì vabbè Beh ovvio che sono Forse un'altra volta No porco Madonna Cioè guarda questo che cazzo sto a fare raga Cioè se cade si No se cade muore Non è che si spezza una gamba Ma muore proprio Ok andiamo E mo Penso che devo andare qui Ok Aspetta Dipingi un capolavoro Cioè Non sto capendo Aspetta Posso farlo qua Non so se posso Credo che non posso Però Gli faccio pure un paio di mele Un alberello Non penso vada bene Però vabbè Ma non è qui secondo me Ah lui vuole le nuvole Ottima scelta Mi sta da tutta la pittura Sentite Non so se sto sbagliando io Può darsi pure Sono molto probabile che io stia sbagliando Però io Sono abbastanza sicuro Che ho lui dietro Non ci posso arrivare Aspetta 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 Forse devo stare insieme a lui Ma che ne so Ma che ne so Però Aspetta Oppure devo seguire la pagina No ma è probabile che devo seguire la pagina L'omino dei sogni Con la polverina magica Sembra sia passata a Sandman Io sono oscillata E vabbè Stai nel letto Stai ridassata Stai guardando Io non ce sto giocando Quindi Io ho oscillato Non ce sto Ma penso che devo andare qui E infatti Ah Ecco Ok Ma si disegna Inizia il capolavoro Allora lui mi chiede la luna Poi mi sta chiedendo Questo Questo Sotto sopra Poi mi chiede più Un mostro Un alberello Un cosino qui Completo Che bel disegno di merda Però dai Non sei neanche nervoso Immagino No nervoso no Ma stanco Quello sei E disegno pietoso Un vomito di disegno Di nuovo luna Niente male eh Ezzo Porco du Sembra che sta ruttando Questo è di ghiaccio Questo lo chiamerò Iceman Ice baby Ah Swoosh Scompigliando tutto Swoosh 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 Vediamo La prossima tappa Oh A quanto pare Devo passare per i canali Luna Va tutto bene No Ho detto di no Palese Ho detto proprio no Aspetta Tu vuoi che torni a fare Non dovevo riportare In vita alla città Dipingendo Capisco Sei sola Prometto che torno a trovarti Appena posso Ok Poverino Poverino Ho me addormento Mentre gioco Ma arrivano i tempistelli E qua Proprio c'è il tempissimo No Luna ti ha donato Il foletto Swoosh Ok Dove devo andare Dipingi il tuo primo Genio Genio Vento Ma ragazzi Mi è palesemente di ghiaccio Non è di vento Vabbè È sempre una figata Come lo disegno questo? Ah Questo così Ha del potenziale Sì Questo gli faccio Questa cosa in testa La coda Così Ok Cos'è la stella? Cos'è sta stella? È il cappello Tipo Oh Damn bro Ma che figo Ah questo è figo Obiettivo aggiornato Raggiungi i canali Li raggiungiamo E poi stacca Aspetta Che ferma lui? Ah Muove Il Cosa qua Ah ragazzi Mi è sotto Oh mio dio Ma quindi Dobbiamo scendere Vabbè Vediamo Così Rischippo Non scorderò mai Quel giorno Vabbè Direi che possiamo salvare Ok Ragazzi Vi ringrazio Domani Vabbè Si sta salvando da solo Anzi Aspetta Almeno andiamo Dove dobbiamo andare Prima che stacco Aspetta Perché voglio come un attimo Il posto dov'è Perché non è questo il posto Ragazzi Eh vedete Non è questo il posto Oh mio dio Esorci Oh il surcio Con gli occhi Rosso Ah C'ha paura del surcio Genio fifone Genio fifone No Ok Mo Mo immagino Che faccio Ah no Mo faccio Anche con lei Eh Immaginato Arfanotrofio Immagino Ehi Ash sta scappando Bea Perché non l'hai fermato Bea Sei bello Si Cavolo Deve essere stata dura A volte mi dimentico Quanto sono fortunato Con i miei genitori Molto vero Beh non sono tante Beh non sono tante Su quattro Però non lo farò Amore Ragazzo Veramente a pezzi Poi già oggi Ho fatto Che ragazzo si chiama Ok Ho fatto pure Due ore di Di Kena Non so perché mi viene da Chiamare Zena O Zelda Vabbè Ragazzi Vi ringrazio Domani lo continuiamo Forse domani inizio Pure qualche altra cosa In concomitanza Con questo gioco Detto questo Vi mando un bacio Un braccio Ciao a tutti Sei bezzi per vari motivi Sì Esatto Ciao a tutti